Buonasera Presidente, grazie per aver accettato questa intervista. Buonasera a lei e benvenuto qui in Corte. Grazie. Non è la prima volta che la Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi sui limiti delle competenze regionali in materia sanitaria. Questa volta però è una decisione che cade in un momento particolare, siamo in piena pandemia, in piena emergenza sanitaria internazionale. Ci spiega qual è il significato della decisione della Corte? È un altro tassello, un tassello importante, ma è un altro tassello nella definizione dei rapporti fra Stato e Regioni. È importante perché riguarda una materia che per nostra fortuna non di frequente viene all'esame della Corte ed è un problema di fronte al quale sempre per fortuna non ci troviamo di frequente avere a che fare noi cittadini, che è quello della pandemia. È stato chiarito senza ombra di dubbio che la competenza a gestire la pandemia è dello Stato, è una competenza esclusiva dello Stato, prevista dall'articolo 117 della Costituzione, di fronte alla quale le Regioni debbono astenersi dall'intervenire o possono intervenire solo nei limiti in cui lo Stato lo consenta. E anche laddove intervengono debbono rispettare il principio di reale collaborazione, cioè non intervenire in modo contrastante o non coordinato con lo Stato. E adesso cosa cambia nel rapporto Stato-Regioni e come? Cambia in questo settore specifico che è quello della pandemia, che lei tenga presente che la Corte Costituzionale, come ogni giudice, non opera per principi e per regole generali, interviene sempre su casi specifici. È dal complesso delle definizioni di questi casi specifici che poi emerge un quadro complessivo. Le motivazioni della sentenza, Presidente, le conosceremo tra qualche giorno, ma intanto possiamo dire che la decisione della Corte stabilisce il principio di esclusività in capo allo Stato in materia di emergenza sanitaria internazionale. Questo anche rispetto alle Regioni ad autonomia speciale. Ecco, in questo senso che vuol dire? Che l'autonomia regionale è in qualche modo intaccata, ridimensionata o comunque che spazio può trovare proprio alla luce dell'esperienza della pandemia? Ma, un momento, attenzione. In materia sanitaria c'è una competenza concorrente tra Stato e Regioni. Quindi le Regioni hanno voce in capitolo e importantissima voce in capitolo. Tenga presente che il servizio sanitario nazionale, così come è definito, in realtà è gestito a livello regionale. Qui ci troviamo di fronte ad un caso veramente particolare che è quello della pandemia. E allora scatta una competenza specifica che è la profilassi internazionale. Quindi la cura di fenomeni, vicende sanitarie che vanno al di là dei confini nazionali. La pandemia, Presidente, ha fatto esplodere le contraddizioni tra Stato e Regioni. E sono contraddizioni che si vivono ormai da vent'anni e che la Corte cerca di risistemare. Le chiedo, secondo lei è arrivato il momento di affrontare i nodi più spinosi del testo del titolo quinto, che tra l'altro sembra non corrispondere più al territorio, al tessuto del territorio del paese? Lei pone problemi che chiaramente vanno al di là della competenza mia e della Corte in generale. Se c'è una materia che ha un alto tasso di politicità è quello della definizione dei rapporti tra Stato e Regioni. A maggior ragione è quello della definizione degli ambiti territoriali. In linea generale io tendo a diffidare di interventi troppo frequenti in questa materia. A fin dei conti il titolo quinto ha creato grossi problemi. Questi problemi si vanno risolvendo, sia grazie alla buona volontà delle parti, sia l'intervento della Corte Costituzionale. Se mai ci vorrebbero delle modifiche di rifinitura, direi, in altre occasioni ho detto che sarebbe opportuno prevedere una clausola come quella che c'è nella Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, la clausola di riserva che permette di portare a livello statale una determinata materia se c'è un interesse nazionale specifico. Ma nel complesso direi che i problemi tra Stato e Regioni non sono poi così drammatici come qualche volta si dice. Ecco, io vorrei astenermi da pronunciarmi invadendo così i campi che non mi compenno. Siamo nel Palazzo della Consulta, accanto al Quirinale. Presidente, la Corte Costituzionale è percepita talvolta come un'istituzione un po' austera, inaccessibile. In realtà vi siete molto aperti ai cittadini, vi siete avvicinati ai cittadini. Può spiegare a chi ci ascolta che cos'è la Corte Costituzionale? In poche battute, non è semplice. Direi che è la custode della Costituzione. Custodire la Costituzione significa custodire i valori che la Costituzione esprime, perché come ormai è un'affermazione comune, l'ha fatta con particolari forze il nostro presidente Paolo Grossi, che le norme costituzionali sono norme che esprimono valori, dai valori discendono poi i diritti. Quindi la Corte Costituzionale è la custode dei diritti fondamentali dei cittadini, ma insieme anche la custode dell'equilibrio del sistema e della correttezza dei rapporti fra le varie istituzioni, quindi il rispetto dei ruoli delle varie istituzioni, a cominciare, su questo ho già insistito anche in passato, dal rispetto dei libiti del ruolo della stessa Corte Costituzionale. Le sentenze poi come si riflettono proprio nella quotidianità delle persone? Può farci qualche esempio? Tenga presente che noi interveniamo sulle leggi, basti considerare che noi siamo intervenuti sulle leggi che disciplinano i sistemi elettorali, quindi per definizione tutti i cittadini che hanno diritto di voto, su tutti i cittadini c'è stata un'incidenza delle sentenze della Corte Costituzionale. Ma se il mondo, se il nostro Paese è cambiato, questo è anche frutto degli interventi della Corte Costituzionale che ha adeguato il nostro ordinamento ai principi e ai valori della Costituzione. Si pensi di parità di genere, sono state molto numerose le sentenze, dall'aborto al cognome, alla, beh, una cosa che interessa anche mia figlia che è magistrato ordinario, alla missione delle donne ai concorsi in magistratura. Ora può sembrare veramente fuori dal mondo che 40 anni fa si ritenessero le donne non idonee a giudicare. E ora è quasi ridicolo un'affermazione del genere ora. Insomma, un po' tutti i campi della nostra vita sociale sono stati incisi da sentenze della Corte. In questo anno di pandemia abbiamo parlato tantissimo del diritto alla salute e continueremo a farlo, ma è un diritto, Presidente, sancito dalla Costituzione, che prevale sugli altri diritti previsti nella nostra Carta Fondamentale. Un'espressione che ha usato il nostro componente, ora non ne fa più parte, è un autorevolissimo costituzionalista, Silvestri, ha detto che non esistono diritti tiranni. Cosa vuol dire? Che tutti i diritti vanno bilanciati fra di loro. Non c'è un diritto che prevale in modo indiscriminato. Il momento che stiamo vivendo lo dimostra in modo palese. Qui quali diritti sono entrati in conflitto? Il diritto alla salute, ma il diritto alla libertà di movimento. Lei capisce che non può considerarsi un diritto irrilevante o meno rilevante di quello della salute. È un delicatissimo bilanciamento che occorre fare, deve fare anzitutto il legislatore e poi anche la Corte, dove la questione venga portata al suo esame. Presidente, il clima nuovo tra le forze politiche, lei pensa possa favorire in qualche modo il principio di leale collaborazione tra Stato-Regioni, spesso evocato dal Presidente della Repubblica Mattarella, ma anche dalle vostre sentenze. Che ne pensa? Il principio di leale collaborazione, sì, è veramente il filo rosso che lega un po' la nostra giurisprudenza e che giustamente il Presidente Mattarella ha sempre valorizzato. Tenga presente che il diritto vive sempre e avanza sulle gambe della gente, delle persone, quindi delle istituzioni che in concreto debbono applicarle. Qualsiasi norma per quanto perfetta creerebbe dei problemi se non ci fosse la volontà di collaborare e di coordinarsi di tutti i soggetti che debbono applicarla. Io mi auguro che questo spirito con cui il nuovo governo ha cominciato ad operare possa favorire una più leale collaborazione, specie in materia di tutela della salute. Devo dire che la sentenza che noi abbiamo pronunciato, che fra poco uscirà con le sue motivazioni, costituirà un notevole aiuto e una spinta in questa direzione. Grazie. Grazie a lei.